Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica per il fai da te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza. Vorrei presentarvi Pablo. Pablo è un'interessante applicazione web che serve per creare oggetti grafici. Pablo è fornito gratuitamente da Buffer e serve per creare oggetti grafici come poster, citazioni, ritoccare immagini, creare annunci, creare intestazioni. Diciamo grafica social, ma non solo. Assomiglia a Canva o anche ad Adobe Page Post, con cui possiamo creare varie tipologie di immagini e condividerle nei principali social e poi anche scaricarle. Bene, le caratteristiche di Pablo, le ho riassunte qui brevemente, è quello che è stato subito all'occhio, che è estremamente facile da utilizzare, ma è anche facile da apprendere, cioè non occorre un lungo tempo per imparare ad utilizzare Pablo e gli strumenti che ci offre. Non richiede nemmeno registrazione, questo lo rende utilizzabile anche da alunni e alunne molto giovani, giovanissimi, bambini e bambine, della primaria, per esempio, della secondaria di primo grado. Perché è così semplice? Perché, come vedremo, utilizza la tecnica di trascinare col puntatore del mouse e rilasciare. è perché ha tutta una serie di modelli, filtri, colori, immagini, font, dimensioni, eccetera, predefiniti, e quindi è tutto guidato. Possiamo anche caricare dal PC immagini o un logo, e quindi questo, oltre alle immagini che sono 600.000 disponibili su Pablo, questo amplia molto le nostre possibilità. Al termine, come dicevo, possiamo condividere nei principali social o scaricare l'immagine nel nostro PC. L'area di lavoro di Pablo si presenta in questo modo, possiamo inizialmente scegliere uno di questi modelli, che verrà immediatamente applicato, adesso sceglierò questo, e possiamo poi scegliere un'immagine, abbiamo a disposizione 600.000, possiamo cercarli, adesso utilizzerò la prima che mi capita, ma potremo anche caricarle, vedete, dal nostro PC. Scegliamo questa bella foresta, eliminiamo adesso, vedete, queste scritte, posso inserire una scritta, naturalmente posso anche modificarla, con un doppio clic posso infatti modificare la scritta. Posso oltre che modificarla, naturalmente, posso anche cambiare il colore, tra quelli che mi vengono proposti, posso modificare il font, vedete, non a caso, bold, l'assetto, italicus, e così via. Posso anche modificare le dimensioni, ecco, questa è la più grande, e l'allineamento. Vedete che il posizionamento, poi, del testo è abbastanza semplice, e c'è una griglia che mi permette di comprendere la posizione esatta del testo, ci sono delle maniglie che mi permettono di allargare quest'area. A destra, come vedete, oltre allo strumento di testo, altri strumenti, ma, completiamo lo strumento di testo, posso anche aggiungere un testo al centro, e un testo, ecco, posso anche aggiungere altri testi, vedete, posso aggiungere fino a tre testi, corpo del testo, eccitazione. Selezionando, tolgo questi testi, oppure posso aggiungere una citazione, tra le tante disponibili, per esempio, eccola qui la nostra citazione, oppure un'altra, vedete, posso scorrere, ce ne sono circa 100. Ovviamente, con un doppio clic posso modificare la citazione, inserire una citazione personale. Continuiamo a esplorare gli strumenti del menu sulla destra, vedete che posso anche ridimensionare, questo è più dato a Pinterest, questo è a Instagram, questo è a Facebook, è Twitter, o ad altri social, manteniamo questa dimensione, posso in ogni momento, ovviamente, cambiare l'immagine, cambiare tutto quanto, posso anche inserire un logo, per inserire un logo, clicco su Insert Logo, e cercherò il logo più adatto, dato che è un bosco, inseriamo cappuccetto rosso, una volta inserito, lo posso, vedete, spostare, dove voglio, lo posso ridimensionare, aumentando, grandendo o diminuendo l'immagine, posso anche curvare l'immagine, fino a ottenere, per esempio, un ovale, e questo, per quanto riguarda il logo, posso nasconderlo, naturalmente, o cancellarlo. Ho dimenticato i filtri, ci sono una decina di filtri che posso applicare, rosso, nessun filtro, e reset, torno all'originale, ecco qua. Bene, a questo punto abbiamo terminato di elaborare la nostra immagine, possiamo condividerla, applicando su Share, vedete, la posso condividere i principali social, compreso Buffer, oppure scaricarla, cliccando su Download. Una volta effettuato il download, l'immagine sarà nel mio PC, e la potrò utilizzare come più mi aggrada. Eccola qui. Come avete visto, si tratta di uno strumento molto efficace, che dà buoni risultati, che può essere utilizzato da chiunque, anche senza alcuna competenza grafica specifica. È disponibile anche un'estensione per Chrome, che una volta installata ci permette di ritagliare un'immagine, o un testo, o da una qualsiasi pagina web, per utilizzarlo su Pablo. Penso che possa essere usato questo strumento nella didattica e nell'educazione alle immagini digitali, cioè nella media education. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.